ciao a tutti rocket verona qui siamo a lampedusa praticamente già stato in questo posto e ci troviamo qua in questo campo tutto sintetico praticamente un campo a 5 e l'anno scorso anzi l'altro anno la bandiera è stata esposta dell'elas verona fuori dalla parte esterna della rete che vedeva sulla strada questa volta la bandiera va a finire dentro praticamente dove c'è la panchina di gioco ok è un bel campo sintetico piacevole anche sicuramente da giocarsi è tutto circondato da protezioni quindi diciamo come sicurezza è ottima fare le belle partite a 5 ma io quello che faccio in questo momento è la bandiera abbiamo anche una ciabatta giallo blu più o meno probabilmente qua i comuni cominciano a prender piede e io Grazie a tutti. 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 Ok. Grazie. Grazie a tutti.